Gestire le proprie finanze personali è un compito importantissimo e oggigiorno con l'inflazione alle stelle che coinvolge anche il nostro stile di vita mantenere le nostre finanze sulla giusta carellata non è di sicuro facile. Fortunatamente ci sono diversi modi per continuare a mantenere un buon stile di vita senza perdere il controllo delle nostre finanze grazie a uno stile di vita minimalista. Quindi let's get started. Ciao a tutti e bentornati su questo canale YouTube. Ciao Valentina canale dove parliamo di eco minimalismo. Dunque nel video di oggi voglio parlare di stile di vita, di inflazione e di come uno stile di vita minimalista può aiutarti a mantenere le tue finanze sotto controllo in un periodo così delicato come quello che stiamo vivendo oggigiorno. Ma la primissima cosa da fare è capire cosa voglio dire quando parlo di inflazione sullo stile di vita e per inflazione sullo stile di vita intendo e soprattutto si verifica quando consentiamo alle nostre spese di aumentare gradualmente nel tempo perché desideriamo uno stile di vita più lussuoso. Solitamente questo succede quando riceviamo un aumento di stipendio, quando il nostro reddito aumenta e di conseguenza aumentano anche le nostre spese e tutto questo perché vogliamo rimanere al passo con quell'aumento di stipendio che abbiamo ricevuto. E questo succede perché ci facciamo prendere la mano, perché siamo entusiasti e non riusciamo a darci un limite. Detto questo vediamo dunque come il minimalismo ci può aiutare per evitare questa inflazione sullo stile di vita. E qui voglio portare un esempio molto personale. Già l'ho citato diverse volte ma se sei nuovo su questo canale ti racconto un po' della mia esperienza. Quando sono arrivata a Londra nel lontano 2013 sono arrivata in questo paese davvero con pochi spicciole. Il tempo mi ha aiutato a crescere professionalmente e ogni anno il mio stipendio aumentava ma di conseguenza aumentavano anche le mie spese. Se con uno stipendio piccolo mi limitavo a una pizza al mese più il mio stipendio aumentava più mi godevo la vita. Uscivo a mangiare la pizza tre volte alla settimana. Invece di uscire farmi l'aperitivo una volta al mese uscivo a farmi l'aperitivo ogni venerdì, sabato e domenica e così via. Quindi ecco che anche nel mio caso il minimalismo ma così anche una mentalità cosciente, responsabile, mi ha aiutato a veder crescere non solo le mie spese di conseguenza anche il divertimento ma soprattutto, cosa appunto fondamentale, i miei risparmi. E come ho fatto dunque? Innanzitutto il primo passo è capire che l'inflazione sul nostro stile di vita può essere davvero pericoloso se lo ignoriamo o se non poniamo la giusta attenzione. Infatti quando stai pensando di aggiungere una nuova spesa, alla tua vita, pensa alle ragioni che ti portano, ai motivi che ti portano a fare questo nuovo acquisto. Questo nuovo acquisto ti porterà a beneficio? Sarà una cosa che userai a lungo termine? Lo vedi come un investimento o possiamo definirla una vera e propria spesa fine a se stessa? È un desiderio momentaneo o una passione più profonda? Puoi fare a meno di acquistare questo soggetto e chiederlo in prestito invece al tuo vicino di casa per esempio? Sii consapevole dunque delle tue scelte di spesa. In questo modo eviterai l'inflazione sul tuo stile di vita per rendere il sopravvento. Fai conti con il tuo aumento di stipendio o con il tuo aumento di reddito. Cosa voglio dire con questa cosa? Prima di decidere di migliorare il tuo stile di vita, analizza più in profondità quanto realmente ti porti a casa da quell'aumento di stipendio. Infatti attraverso siti internet quali calcolostipendionetto.it puoi davvero capire quanto reale è il tuo aumento. Non dimentichiamoci che se ricevi un aumento dello stipendio quell'aumento viene tassato e di conseguenza devi calcolare il netto che ti porti a casa, non il lordo. E qui è un errore che fanno molte persone. Infatti per esempio se entriamo all'interno del sito internet calcolastipendionetto.it possiamo andare a riportare lo stipendio lordo annuale. Supponiamo che si tratta di 30.000 euro annuali. Il numero di mensilità consideriamo invece che 12.000, 13.000 perché in Italia appunto si ha la tredicesima. Apprendistato no, tempo indeterminato sì, giorni di lavoro dipendente 365, regione di residenza mettiamo il Veneto che è appunto la mia regione, figli no, coniuge a carico, altri familiari a carichi no, includiamo il bonus di 100 euro. Quindi rendiamo il tutto uno stipendio facile di una donna o di un uomo che è nel bel mezzo della sua carriera e calcoliamo quanto ci portiamo a casa. Ecco qui che appare che il nostro stipendio netto mensile è di 1729 euro. Quindi ecco che noi non ci portiamo a casa 30.000 euro annui ma bensì 22.477 euro netti annuali. Grazie a questo grafico abbiamo anche la possibilità di capire la percentuale del nostro stipendio che va nelle mani dell'IRPEF, IMSS, detrazioni varie eccetera. Ora torniamo al nostro stipendio lordo annuale e supponiamo che al lavoro siamo stati bravissimi e ci hanno dato un aumento di 5.000 euro annui. Quindi invece di guadagnare 30.000 guadagniamo 35.000 euro annui. Noi manteniamo gli stessi dettagli, il numero di mensilità, i figli non a carico, quindi premiamo il calcola. Ecco come è facile capire che il nostro stipendio netto mensile adesso è di 1926 e non più di 2700. Quindi abbiamo un aumento di poco più di 200 euro. Mentre annui non abbiamo un aumento di 5.000 euro come appunto pensavamo. Quello è il nostro lordo ma bensì abbiamo un aumento di 3.000 o poco più euro netti annui. Infatti ci viene anche riportato che il nostro stipendio netto annuale è di 25.000 euro o poco più insomma rispetto ai 22.000 precedenti con i 30.000 euro lordi annui. Quindi ecco che ponendo la giusta attenzione e facendo i giusti calcoli tra stipendio lordo e stipendio netto abbiamo un'idea molto più chiara e dettagliata di quanto è reale il nostro aumento e di conseguenza come possiamo destinare questi 200 euro in più al mese. E qui mi voglio collegare subito al punto successivo che è imposta il tuo risparmio automatico. Si sa il modo più facile per risparmiare è automatizzare questo risparmio. Facendo questo ogni mese non ti devi preoccupare di trasferire i tuoi risparmi da un conto all'altro. In infatti come già detto in diversi video consiglio sempre di avere un conto risparmi separato da il conto quotidiano. In questo modo non solo vedi i tuoi risparmi aumentare autonomamente ma eviti anche di andare a spendere quei soldi che potrebbero finire in risparmio. E qui voglio portarti il mio esempio personale e come uno stile di vita minimalista mi ha aiutato a vedere aumentare i miei risparmi. Quando alla fine di ogni anno lavorativo ricevevo l'aumento dello stipendio quell'aumento non lo vedevo come un motivo di spesa maggiore ma bensì automatizzavo i miei risparmi aggiungendo quelle 200 sterline io parlo in sterline perché appunto vivo in Gran Bretagna all'importo del mio risparmio automatico. Ecco che così facendo mantieni le tue spese regolari mentre aumenti lo stipendio e aumenti i tuoi risparmi. In questo modo evitiamo la famosa inflazione del nostro stile di vita. Altra cosa che può esserti di aiuto è impostare un budget. Questo budget ti dà la possibilità di rimanere entro i tuoi limiti di spesa e di conseguenza ti aiuta a rimanere sulla giusta strada. Se ovviamente vuoi evitare questa inflazione sul tuo stile di vita la creazione di un budget è sicuramente una scelta efficace. Ecco che anche in questo caso uno stile di vita minimal ti aiuta a rimanere all'interno del tuo budget perché tu sai esattamente quanto destinare al divertimento, allo shopping ma anche alle cose più importanti quali bollette, supermercato, viaggi perché i viaggi ovviamente rientrano sempre tra le cose importanti della vita e le altre varie spese che dipendono da persona a persona, uomo, donna, età e stile di vita. Quindi mi raccomando quando decidi di organizzare il tuo budget non dimenticarti di considerare il tuo stile di vita. Sei una donna single? Sei una mamma? Quanti figli a carico hai? Hai un compagno che ti supporta? Vivi ancora a casa con i genitori? Vivi per conto tuo? Insomma quando crei il tuo budget considera sempre il tuo stile di vita e soprattutto non sentirti in colpa, non sentirti imbarazzata perché non c'è nulla di cui sentirsi in colpa o imbarazzate perché molto spesso quando si fa budgeting ci si rende conto di quanto spendiamo, se è troppo troppo poco e semplicemente accetta la tua situazione e se vuoi migliorarla insomma sai che devi fare quattro conti in più. E qui mi collego al punto successivo che è coccolati. È importante avere un budget, è importantissimo saper risparmiare, è importantissimo saper gestire le nostre finanze ma non dimentichiamoci di coccolarci e di trattarci bene. Ogni tanto qualche vizio deve essere accontentato perché altrimenti che vita è? Quindi che benvengano quei vizi che ci facciano stare bene, che ci facciano vivere sereni, che ci diano quella carica di vita e di voglia di fare, conquistare, provare, sperimentare cose nuove senza farci andare al verde e soprattutto continuando a dormire sogni tranquilli. Metti da parte una percentuale del tuo reddito. E qui mi voglio collegare al punto 3, quando si parlava di avere un aumento dello stipendio e decidere cosa fare con quell'aumento dello stipendio. Quindi ancora una volta decidiamo come vogliamo destinare quell'aumento. Se adotti uno stile di vita minimalista probabilmente deciderai di utilizzare queste entrate extra, questo aumento di reddito, per il raggiungimento di obiettivi finanziari, personali, di crescita. E qui voglio portarti degli esempi. Se per esempio è sempre rimandato quel corso di informatica che tanto ti interessa perché non avevi abbastanza disponibilità, beh questo potrebbe essere il momento per utilizzare quella entrata extra di denaro per qualcosa che ti porterà dei benefici, appunto delle conoscenze in più. Oppure, come nel mio caso, hai voglia di migliorare il tuo sorriso, spendi quei soldi per andare dal dentista. È un investimento che fai per te, per la tua serenità, per la tua persona, quindi è sicuramente una spesa da valorizzare. Oppure vuoi crescere come persona e quindi vuoi dedicare quei 200 euro in più mensili per farti un weekend da sola da qualche parte. Perché non dimentichiamoci che io considero i viaggi come un motivo di crescita. Io lo dico sempre, i soldi spesi per i viaggi sono i soldi miglior spesi e qui metto un punto e guai a chi mi contraddice. Quindi insomma tutto questo discorso per dire che uno stile di vita minimalista, un pensiero minimalista ti può portare a fare scelte più consapevoli in merito al denaro. Altro consiglio importantissimo che voglio dare è di non fare tutto subito. Quando ci arriva questo aumento dello stipendio abbiamo il desiderio di fare cose nuove, il corso di equitazione, il corso di nuoto, il corso di pianoforte eccetera eccetera eccetera. Ma non dimentichiamoci che come il nostro stipendio è aumentato così anche le cose intorno a noi sono aumentate e noi come detto inizialmente non vogliamo che l'inflazione vada anche a toccare il nostro stile di vita e se lo fa noi dobbiamo essere consapevoli di come e di dove. Quindi ancora una volta evitiamo di fare tutto subito. Invece di prendere questi tre corsi e iniziarli a fare domani prendiamo una cosa alla volta e decidiamo dove voler dedicare i nostri soldi e il nostro tempo. In questo modo evitiamo di spendere soldi a casaccio. Ancora una volta uno stile di vita minimalista che ti fa assaporare la profondità delle cose, l'emozione del momento ti aiuterà a fare la scelta che più si addice per te in questo momento della tua vita. Trova amici con gli stessi obiettivi. Un modo per rimanere sulla giusta strada è avere degli amici che la pensano più o meno come te. Questo significa semplicemente di non circondarti da tutte quelle persone che ti fanno sentire a disagio se non resti, se non stai al passo con i tempi e di conseguenza al passo con le varie spese, con i vari trend, con le novità del momento eccetera eccetera eccetera. Posso assicurarti che è assolutamente possibile divertirsi con gli amici anche senza dover spendere patrimoni. Less is more e l'essenziale è invisibile agli occhi. Quindi gustiamoci la vera amicizia. L'amicizia non è palpabile con mano nel senso che non è un qualcosa di fisico ma è una sensazione di amore e di rispetto che si prova nei confronti dell'amico o dell'amica che ti sta accanto con il quale è assolutamente possibile divertirsi e stare bene facendo semplicemente una passeggiata al parco, una serata dentro casa a guardare qualche bel film e insomma di idee ce ne sono davvero tante. Quindi ancora una volta circondiamoci di persone che hanno più o meno il nostro stile di vita. Bene dunque io spero davvero che questo video sul risparmio, il minimalismo, l'inflazione sullo stile di vita mettendo un po' insieme gli argomenti caldi del momento ti possano aiutare a fare un po' di chiarezza su come gestire i soldi e una vita minimalista e soprattutto stando e rimanendo in armonia con te stesso. Ovviamente se ti è piaciuto questo video fammelo sapere con un like e se non l'hai ancora fatto ti invito ad iscriverti al canale attivando la campanella delle notifiche. Noi come sempre ci vediamo sabato prossimo con un nuovo video e nel frattempo buon weekend, un bacio, ciao!